Questa mattina ad Agropoli alle ore 8.30 due cavalli, un pezzato razza Paint e uno di razza Maremmano Mantellato Baio hanno attraversato in solitaria e senza il loro padrone Piazza della Repubblica e poi via Pio X tra lo stupore della gente. Non è mancata la paura, l'indignazione e anche la felicità di qualcuno nel vedere una simile scena nel cuore della città. Tutto è accaduto nell'ora di punta, all'ingresso delle scuole, alla presenza di centinaia di bambini e nel pieno caos automobilistico cittadino, il fatto in sé è folcloristico, considerato che i cavalli nell'attraversare Piazza della Repubblica, dove assede il Comune e nello stesso stabile la Polizia Municipale, sono stati avvistati anche dai vigili urbani di Agropoli, che non sono intervenuti tempestivamente, permettendo la lunga passeggiata mattutina ai quadrupedi senza meta per tutta via Pio X, bloccando il traffico e mettendo in pericolo l'incolumità delle persone. Ad Agropoli i casi di questo genere si ripetono costantemente ogni settimana, sono puntualmente segnalati, ma una soluzione ancora non è stata adottata, probabilmente si rimane in attesa dell'incidente grave per poter prendere seri provvedimenti.